non è che mi dà molta fiducia ne devo essere sincero però però un'altra rongetta che va giù sotto là qua dovrebbe essere quella che abbiamo trovato alla scaletta maia mia Ragazzi, che ronja. Ragazzi, che ronjetta! E qui l'acqua finisce, lì. Basta, è sparita, niente più. Porca trota! Che spettacolo di posto! Eccolo qua il tubo! Questo l'antubato è quello che arriva giù di là. Ecco perché. Ho trovato anche lo scettro magico. E questo per Yuri. Guarda Dio! Ma che bello che è! Un scettro di Harry Potter. E siamo arrivati quasi alla civiltà. Guarda i segni. Guarda che hai le frecce indicatrici. Tic-tac-tac! Buongiorno Buongiorno Bello! Chicken Uhm Grande Grazie a tutti.